Oasi verde, sempre con il sorriso sulle labbra. Per Roman, sette anni, scappato dall'Ucraina a causa della guerra, oggi è il suo primo giorno di scuola. Accolto con una grande festa al Plesso Santa Maria Rifugio di Cava dei Tirreni, da bambini, insegnanti, genitori ed associazioni del territorio che lo hanno salutato con entusiasmo. Attivato il protocollo d'accoglienza, l'Istituto Comprensivo Carducci Trezza di Cava dei Tirreni sta mettendo in campo una serie di attività volte ad ospitare i piccoli profughi di guerra all'insegna dell'inclusione e della solidarietà. È necessario essere pronti, la scuola come sempre si appresta ad aprire le sue porte e rispondere a questa nuova emergenza. Siamo passati dal Covid a un'emergenza diversa, ma ovviamente siamo pronti a fare la nostra parte. Le norme ci dicono dalla Costituzione, alle varie convenzioni, anche alle varie circolari che si avvicendano, che la scuola deve accogliere, a prescindere dallo stato vaccinale e quindi dalla situazione sanitaria degli studenti, a prescindere anche dalla loro situazione amministrativa, salvo poi fare le comunicazioni del caso alle ASL e agli enti locali. Quindi noi accogliamo e abbiamo stirato un protocollo di accoglienza che utilizzeremo poi per tutti i bambini che arriveranno. Il protocollo prevede che l'iscrizione venga fatta per il tramite della segreteria con dei moduli di iscrizione in bilingue, per consentire la comprensione. Dopodiché l'alunno viene collocato nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo situazioni particolarmente difficili dove magari la conoscenza della lingua italiana è praticamente prossima allo zero, come nel caso del bambino che è appena entrato. Allora in questo caso la norma ci consente di retrocedere di un anno o anche di due anni, per cui viene collocato nella classe subito antecedente a quella corrispondente all'età anagrafica. Dopodiché tutti i bambini che vengono in particolare nel nostro istituto vengono dotati di un kit, quindi un tablet all'interno installato il software per la traduzione simultanea e poi quaderni, libri, zaini e tutto l'occorrente che viene o acquistato direttamente dalla scuola o, come in questo caso particolare, con il supporto anche delle associazioni del territorio, i servizi integrativi, così come anche dei genitori, dei volontari e anche, devo dire, la cavese calcio che ha regalato lo zainetto che il bambino stamattina ha utilizzato per venire a scuola. Abbiamo anche nel protocollo individuato un supporto psicologico per il tramite dello psicologo dell'istituto, affiancato da un mediatore linguistico che sarà un volontario. All'interno dell'istituto, invece, abbiamo individuato un tutoraggio tra pari, cioè un bambino di origini ucraine, che quindi parla all'ucraino e che supporterà questo bambino, così come gli altri che arriveranno, nel fare un ponte con i suoi pari e con gli insegnanti. Accanto a tutto questo, il protocollo prevede anche che gli insegnanti stilino un documento che si chiama Piano Didattico Personalizzato e che ha lo scopo di adattare il percorso di apprendimento alle caratteristiche effettive del bambino, quindi ai suoi bisogni speciali. Per tutti i bambini che verranno, che arriveranno, ci sarà sempre la festa di benvenuto ed è un modo per dare un'iniezione di fiducia verso il futuro, visto che il loro passato recente purtroppo ha fatto vivere loro un dramma di dimensioni notevoli e difficili da metabolizzare. Per Roman, accompagnato dalla sua mamma, dalla nonna e da altri due piccoli fratellini, oggi comincia una nuova avventura lontano da casa, ma avvolto da un caloroso abbraccio tutto italiano. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.